L'isola di Procida ha un presidio ospedaliero. Come affronta la cittadinanza i problemi di ogni giorno? Se c'è qualcuno, una nascita, un ferimento grave? Il presidio procidano è un presidio di pronto soccorso attivo. Però noi siamo anche attrezzati laddove può esserci un parto, diciamo, senza avere la possibilità del trasferimento. Cosa che avviene ogni anno. Quindi ci sono sempre un paio di bambini che nascono a Procida. Il 118 è un servizio che utilizza regolarmente? Noi da questo punto di vista teniamo il 118 che funziona bene. Noi praticamente passiamo dalla struttura del presidio all'eliporto. Abbiamo poi l'idroambulanza. Noi teniamo le ambulanze, diciamo, quelle normali che possono andare anche con i traghetti. E il nostro presidio, quindi, è un presidio di emergenza. Un pronto soccorso dove praticamente il cittadino arriva. Allora, se è codice rosso, viene immediatamente trasferito. Se viceversa non lo è, insomma, una volta che viene stabilizzato, può anche tornare a casa. Qualche volta si ferma, perché abbiamo anche la possibilità di avere nove posti letto. E quindi poi ritorna all'indomani a casa. Teniamo un'attacca, che però, diciamo, stiamo attendendo la nuova, perché da un paio di mesi non sta funzionando. Diciamo che abbiamo delle carenze, che sono carenze più di tipo, come devo dire, ambulatoriale. La carenza c'è soprattutto per la cardiologia, che non è prevista nella struttura ospedaliera. Diciamo, sei volte al mese, di portarla almeno a dieci, la presenza del cardiologo, perché poi c'è un'utenza, che chiaramente è un'utenza che va invecchiando sull'isola. E quindi noi dobbiamo pensare a questo, che non deve andare né a Ischia né a Pozzuola. Queste sono le carenze, ma da un punto di vista proprio, diciamo, di ospedale che deve rispondere alle esigenze, risponde a quella che poi la legge consente. Cioè, noi abbiamo questo presidio che è praticamente di emergenza e non come il vostro ospedale di Ischia, perché il vostro è un ospedale che pure, credo, abbia delle necessità, ma anche di allargamento come struttura, ma non è il nostro ospedale.